Alla polemica preferiamo la proposta. È così che il candidato sindaco alle ultime elezioni Angelo Biondi apre l'intervento in seguito al continuo botta e risposta a cui si è assistito in questi giorni fra il sindaco Angelo Cambiano e i consiglieri di opposizione. Il candidato sindaco Angelo Biondi interviene sulla questione invitando a stemperare il clima infuocato di questi giorni convinto che la polemica politica non produce mai nulla di buono, specialmente quando diventa aspra ed offensiva. Assistere in questi giorni al continuo botta e risposta di comunicati stampa e interventi televisivi fra il sindaco con i suoi sostenitori da una parte e con alcuni degli esponenti politici con cui si è disputato il ballottaggio dall'altra non solo mi rammarica dichiara Biondi ma rafforza il mio convincimento che il tempo e le esperienze passate non hanno insegnato nulla. La politica licatese sottolinea Biondi non può vivere una perenne campagna elettorale. Chi perde non deve pensare solamente a buttare giù dalla torre il prima possibile chi ha vinto e quest'ultimo non può a sua volta convincersi di esercitare una sorta di diritto del vincitore amministrando secondo la propria esclusiva visione i problemi e le questioni che riguardano tutti. Merita comunque considerazione e apprezzamento l'ultimo comunicato del sindaco, scrive Biondi, attraverso il quale tenta di smorzare la suddetta polemica. Ma Biondi tiene a ricordare che i toni della polemica aumentano di volume. Se da ambo le parti si butta benzina sul fuoco e le esternazioni televisive del sindaco nell'ultima trasmissione del punto unite all'intervento a mezzo stampa dell'assessore San Vito hanno fatto da ottimo combustibile. Biondi si dice in totale accordo con le ultime parole del sindaco quando dice la città e i suoi cittadini non necessitano di diatribe e attacchi sterili e menmeno di polemiche e di risposte altrettanto sterili e comportamenti politico-amministrativi poco concilianti. La città ha bisogno di fatti e di gente propositiva e fattiva che riesca a mettere da parte antipatie personali e diatribe. Angelo Biondi precisa subito di aver accettato con serenità il risponso democratico. Avendo già amministrato, dice Biondi, siamo consapevoli che in pochi mesi non si possono risolvere i problemi di ricata per i quali occorrerebbero anni e anni di ininterrotta buona amministrazione, ma siamo altrettanto consapevoli che il buongiorno si vede dal mattino e ad oggi, a parte l'apprezzabile impegno nel ripulire e rendere meno vivibile una città lasciata per troppo tempo nell'abbandono, poco è stato fatto, continua Biondi, per aggredire i problemi strutturali più urgenti, come rilancio dell'economia e ripresa dell'occupazione. Angelo Biondi nel comunicato manifesta la disponibilità al confronto e alla collaborazione politica su azioni e programmi ben definiti da porre in essere, fra cui il rilancio dell'edilizia e il nuovo piano regolatore, garantire l'acqua che c'è agli agricoltori, incentivare gli investimenti privati, rivitalizzare lo sviluppo turistico, definire ed elaborare la progettualità necessaria per la partecipazione ai prossimi bandi della comunità europea. Il tutto conclude Angelo Biondi alla chiara luce del sole e nel rispetto dei ruoli che i cittadini licatesi hanno voluto assegnare a seguito delle recenti elezioni.